Un paio di cose al volo per quanto riguarda Giovanni Carnevali, uno dei personaggi più in vista, più importanti che dominano il calciomercato stagione dopo stagione. Parliamo del direttore sportivo del Sassuolo che ha parlato in una recente occasione, tra le altre cose che riguardano per esempio Frattesi e appunto il suo lavoro di gestione dei calciatori dei Neroverdi, anche di Magnanelli direzione Juventus e di Allegri direzione Arabia Saudita. Su Allegri ha detto una cosa che potrebbe dar fastidio a tanti tifosi della Juventus, della serie, visto che non sono coinvolto direttamente, mi esprimo come se potessi incidere su una determinata situazione facendo danno agli altri, tanto appunto non pago io. Mi spiego peggio. Carnevali ha detto fa bene Allegri a rifiutare la proposta dell'Arabia Saudita. Ora, ammesso che questa proposta ci sia veramente stata, ammesso che le cifre siano state quelle circolate e non nettamente inferiori, la fa facile a Carnevali a dire fa bene Allegri a rifiutare, tanto mica lo paga lui. Tanto mica ha qualche svantaggio Carnevali in Allegri alla Juventus, anzi può avere dei vantaggi, perché Allegri alla Juventus può significare una garanzia di indebolimento o di non miglioramento per la Juventus, che intanto continua anche per colpa di Allegri o per merito suo a spendere e espandere nei confronti anche a beneficio del Sassuolo acquistando giocatori, vedasi Locatelli, che poi dopo essere stati pagati tanto vengono puntualmente peggiorati e quindi sono tutti guadagni, vantaggi per Carnevali e per il Sassuolo, per cui appunto la fa facile a dire a tutto danno della Juventus e degli Juventini che Allegri fa bene non andare in Arabia Saudita. Tanto i soldi dello stipendio di Allegri e l'offerta araba comunque non li avrebbe tirati fuori i Carnevali. Molto meno fastidiosa e più interessante invece la posizione di Carnevali per quanto riguarda Magnanelli. Magnanelli, storico giocatore del Sassuolo, da sempre il Sassuolo ha fatto tutte le categorie fino alla Serie A, titolarissimo capitano finché ha giocato, ha detto Carnevali gli abbiamo dato l'opportunità di entrare nello staff di Dionisi. Quindi se lui ha fatto questa scelta di andare alla Juventus non possiamo farci nulla, ha detto sostanzialmente un Carnevali evidentemente non contento di questa notizia di Magnanelli alla Juve, se fosse rimasto, ha detto, un altro anno sicuramente sarebbe stato bene per lui. Insomma Carnevali infastidito, per niente d'accordo, contrariato rispetto alla scelta di Magnanelli di accordarsi con Allegri per entrare nel suo staff. Ma attenzione, nel suo staff, poi bisogna capire se sarà anche quello della Juventus. Sembrava infatti imminente l'approdo di Magnanelli alla Juve. Finora nulla e si è parlato anche di un'ufficialità da attendere più verso l'inizio del ritiro 10-11 luglio, quindi tra ancora un paio di settimane. Sicuramente le dichiarazioni di Magnanelli stesso sul fatto di aver parlato con Allegri erano già una conferma sufficiente di una trattativa con la Juve o di un'ipotesi Magnanelli nello staff della Juventus. Le parole di Carnevali non fanno che confermare che Magnanelli comunque lascerà il sassuolo e andando proprio alla Juventus, per quanto tradendo in qualche modo la fiducia dei neroverdi. Ma neanche Carnevali ci toglie i dubbi sulla reale destinazione di Magnanelli. Nello staff della Juventus Tucur o nello staff di Allegri in attesa di decidere il futuro di Allegri? Le tempistiche sull'eventuale ufficialità ci diranno tantissimo, anzi tutto. Però quantomeno Carnevali ha mantenuto una certa coerenza tra queste due esternazioni, dicendo che Magnanelli sostanzialmente ha sbagliato ad andare alla Juve pur trattandosi di un upgrade e che Allegri avrebbe sbagliato ad andare all'Arabia Saudita pur trattandosi di un upgrade economico e che quindi ha fatto bene a restare alla Juve. Bene avrebbe fatto anche Magnanelli a restare al sassuolo. Ecco, coerente ma non del tutto condivisibile Carnevali, perché magari Magnanelli sbaglia a lasciare il sassuolo ma non tanto per andare nello staff di Allegri che chi se ne frega. Magari avrebbe sbagliato ad andare allo staff della Juve dal mio punto di vista e invece Allegri avrebbe fatto e farebbe benissimo ad andarsi nell'Arabia Saudita per il bene della Juve e del calcio, compreso il sassuolo. Grazie a tutti.